Finalmente dopo un anno Siamo arrivati Stavolta era interessante Mi dovrei mettere alcuni clip qui Stai grandinando Oh no Più carne c'è e meglio è Ah ho capito Più carne c'è Si calmi con la carne signora Buongiorno Oggi con tanta gioia E felicità Più o meno Però tanto adesso ci andiamo Via Andiamo a recuperare il mezzo Bello Abbiamo preso il mezzo Il mezzo E' aggressivo Siamo riusciti A uscire da Sofia Con questo bellissimo cielo Di là E te lo tolgo già Quello di Pini Perchè io lo odio Va benissimo Perfettamente bilanciato E adesso La nostra prossima destinazione Sarà Derrila Monastery E adesso Le strade sono migliorate In centro era un po' peggio Ma Molto meglio Il monastero di Rila Quindi questo è il nostro Il monastero di Rila Alla via Il monastero di Rila Madonna che schifo Che bellezza È proprio una bellezza Come scusa? Al magico Monastero di Rila Arriva La signora De quattro cappelle lunghe Ti è piaciuta la nostra Visita guidata cieco? Sì Come mai? Sì Vabbè Poi ha fatto lo sforzo Si è Si è imparato al resto Continuiamo ad essere Nel museo Di Di un museo Che si è Il monastero di Rila E c'è Un rumore Un po' simpatico Che Francesco sta piacendo molto Allora Stasera Siamo bene forse Siamo molto meglio Bene no Capo Che bello Ma come succede? Perché scappi? Oh Perché scappi? È scappato È scappato Come facciamo? Porca Che schifo Ma Cicco Perché il marnello Non è nero? Ma Perché L'hanno chiamato Marnello Se è fuxello Come scusa? Comunque è quello Bello Bello Ah il WC Sempre bello Io pensavo di aver fatto un timelapse Quindi ha fatto niente Niente Un bel mucchio di niente Ha fatto un scoglio Belli però No 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 Vittorioso Vai Iago Scusa Dove stiamo andando? Mi ricordo neanche più A me piace la pioggia Forse siamo noi che piacciamo la pioggia Perché Di sto passo È una relazione amorosa senza unico Ti piace la pioggia? No Non ti sto facendo il video Cicco Non ti sentire la soggezione Nel richiamare i tuoi amici uccelli Pazzito Arriva al capo Vuoi vedere un foto? Da posto? Che cazzo Dove non avessi questo? Francesco Come stiamo andando oggi? Siamo in un parco tibetano Molto carino anche Abbiamo avuto un incontro D'altro tipo Con un cantante Mi dicevi Uno che cantava Ma cosa cantava? Soprano Ah un soprano Soprano Siamo a fine di Boccelli Ah Sarà lui Ecco l'antico teatro Dell'antichità Forse già lo sappiamo Eccoci qui Sul malecone de Cuba Sul malecone de Cuba Ma in Bulgaria Anche detta La collina Collinosa Delle colline magiche Come mai siamo qui? Perché non ci piace Farci male Esatto Moscerino Malefico Un moscerino molto malefico Questa è la vista In caso Si vede E niente Ci vediamo in punta Dai dai Ma è una copia O l'originale? Assolutamente l'originale Vedete Che cosa è questa cosa? Tutto c'è molto eco Molto bello Bello è bello Peccato che lo stiano Ristrutturando La parte iniziale Molto bene Giustamente si vede poco Questa del telefono È più o meno Come quella della macchina foto Circa circa Oh Non sta molto bene Però li vedo le scale E la cosa Mi piace Siamo arrivati in punta Quasi Perché là Siamo arrivati Ciao Grazie a tutti per aver guardato questo video E spero che avete piaciuto Se avete piaciuto Se avete piaciuto Se avete piaciuto Se avete piaciuto Aggiungere un like Aggiungere con i miei amici E magari Aggiungere il canale Se avete piaciuto Questo tipo di video E anche Cominciate al canale Quali vostro piacere E se avete piaciuto E se avete piaciuto E se avete piaciuto E beh Spero te vedo In la prossima Ciao Ciao Ciao